del PD? Ma più che una sconfitta ho un'opportunità persa, quindi prendo atto con rammarico come centinaia di altri miei colleghi sindaci che hanno firmato questa candidatura che aveva un obiettivo molto chiaro, quello di dare più forza e unità al Partito Democratico. Conferma che sarebbe un errore e un'eventuale scissione di una parte del partito fuori dal PD? Io penso che tutte le scissioni siano sempre negative, nel resto la storia ci insegna che producono risultati negativi. Detto questo non ho intenzione di occuparmi della politica nazionale, io sono concentrato su Firenze, faccio il sindaco di Firenze e mi preparo per proporre ai fiorentini un progetto per i prossimi cinque anni. Il mio partito si chiama Firenze.